150 metri allo stacco, ci sono problemi per il numero 6 di Regalmarin. Partiti con all'interno reporter SM che prova ad assumere il comando, al suo interno si fa vedere valere il numero 1 Robin Cuff che riesce a recuperare ai 200 metri in 14.3, i due appaiati con Robin ancora all'interno di reporter, con reporter che vorrebbe passare quando si arriva all'accompletamento della piegata, paletto dei 400 in 29.3. Ancora Robin Cuff all'interno di reporter SM con reporter che ora passa a metà, poi finisce però con lo sbagliare, quindi rimane davanti a questo punto Robin Cuff con all'esterno Ruggia da Lodd, 44.2, passaggio ai 600. Robin Cuff che è il leader sulla piegata di destra nei confronti del numero 2 Remigio Lewis, poi ancora il 4 Ruggia da Lodd. Il 14 di Raschi Minanronco, partito molto bene dalla seconda fila che è in terza posizione, 59.9, passaggio agli 800, si è andati piuttosto forte e il primo chilometro va via in 1.15.3 da parte di Robin Cuff che continua a condurre quando siamo agli ultimi 500 di corsa, con adesso il tentativo in terza corsia da parte di Roggio Riore SM. Tre quarti di miglio in 1.30.2 con un 15 ancora di frazioni da parte di Robin Cuff con adesso ha spostato dalla corda anche Raschi Minanronco che prova ad andare in caccia della battistrada mentre rimane lì Lemigio Lewis addirittura d'arrivo con Robin Cuff al comando. Raschi che ci prova negli ultimi metri, Raschi che attacca un Robin Cuff che è un po' stanco, Raschi Minanronco che passa a 70 metri al traguardo e viene a concludere. Raschi Minanronco nei confronti di Robin Cuff e Rolling Blessed. Due minuti sul cronometro per Raschi Minanronco e Mario Minopoli, 7.22, la quota al totalizzatore.